Server della Gleba Rosso del Tubo, bentornati nel consueto appuntamento con le figurine vi ricordo subito immediatamente di mettere like a questo video e commentare sotto con scritto subito immediatamente e di venirci a trovare nel server della Gleba Viola, quello live, che si può ascoltare anche Radio Delmo sul server della Gleba Viola e sul server della Gleba Viola Live puoi anche utilizzare il tuo abbonamento a Amazon Prime se ce l'hai per iscriverti gratuitamente al canale e diventare un sub del server della Gleba diventare un vero servo della Gleba di quelli nel Telegram cosa andiamo a fare quest'oggi, che in realtà è sempre oggi, ma a te ti sembrano umani perché il tempo sul tubo passa in maniera diversa, è come intersmerdar questo è un mazzo che ha fatto buoni risultati in ladder, in alchemy e a vederlo è un mucchio di carte vomitate a caso, però è bello perché c'è Sarulf e che fai, non lo giochi Sarulf? certo che lo devi giocare Sarulf, per forza vediamo se questo mazzo è un sogno bagnato di qualcuno che ha avuto molto culo Sarulf e Githrog oppure se effettivamente questo è un mazzo vero pronti questo non è un The Rock, minchia, è un aggro la curva A4 è un aggro, non è mai un The Rock quindi vediamo se questo mazzo mena o se questo mazzo meno ricordo a tutti che le mie nuove luci sono meravigliose un nuovo comparto studistico ogni giorno mi si vede sempre meglio, è pazzesco The Pebble, esatto, al sassolino non la chat oggi poti vazzamare un Golgari e un Giund modifiche che sfrutti Grackmo madonna pirro quindi storica addirittura se brawl non puoi fare una roba del genere brawl modifiche una palude e solo carte verdi bene questa si può si può tenere ma si la curva aggro che non ti aspetti non è vero, te l'aspetti 4-4 vigilance travolgere di secondo come sempre probabilmente fa cose com'è che si gioca Alchemy? premi il tasto play nella queue Alchemy e lo giochi molto facile è standard Grackmo ma è Ikoria è Ikoria o è Zendikar? è Zendikar è standard perché la gente ce l'ha sempre di secondo la Anvil e io mai? chiedo eh chiedo chiedo per cotisia perché la gente ha fottutamente sempre Anvil di secondo io mai quando lo gioco? e la devo tenere sì nella peggio faccio butto attivo first oh beh già un 4-4 travolgere vigilance tolgo l'artefatto stella che pensi che te lo lascio? mannaggia vero? quindi questo è il mazzo che abbiamo usato prima però la versione Alchemy è molto più forte perché c'ha il sanguine brushstroke epiculo epiculo c'è doppio nero in questo mazzo mai vero? sì c'è il massaggio tocca prende doppio nero no bravo tuo tapper sorprendi sorprendi carte forti golgari carte forti carte forti aggro peraltro può stare può stare ma non sono vrate tecnicamente te quei massacri li puoi fare da uno oppure metterli in campo che muore la roba e fa danni il massacro non è male in aggro ricordati il mono nero zombie che ne gioca 4 di main anzi senza quello fatica è bello che non mi togli niente si gode si gode salvo il trade da tutto e inizio a picchiare più forte con i travolgere nel senso sassate nella denti sì sì sassate nella denti azzardere anche un botte di vega che è tanto che non lo diciamo è tanto che non diciamo botte di vega mentre non è andata quando dicevo solo botte di vega in continuazione ormai i meme si sono ampliati odi di di pare che un 4-4 pare che travolgere sia forte contro i pippoli non me lo sarei mai aspettato ecco la la carta fondamentale quella fondamentale ecco ora se pesco massacro è alla end o al mantenimento è al mantenimento ragazzi è al mantenimento devo spaccare il blood art rischio di morire devo decisamente spaccare il blood art rischio ho fatto una cagata in mane ora perdo saruf 7-7 come eh lo devo spaccare adesso ho fatto una stronzata saruf 7-7 che non è presente non è successo niente 8-8 ok eh il problema è che ora è troppo beh ma hai perso hai morto hai morto un saluto hai morta i morta vediamo un chat così questo è un piccolo aneddoto chissà come mai i morta si chiama i morta è un piccolo aneddoto chissà chi è poi l'ital guarda Alessandro ottimo tester allora contro quel mazzo buffo Kali Ritual pare forte Liberator pare forte velo eh ma l'alt stalla un po' più contro super aggro vogemote marcia mi piace e thirst grasp fa un po' troppi danni cobra si abbassa direi anche ranger class tutte tranne una ma se voglio oversidare bravo Davids dai nata è il gioco di parole su i nata i morta è un nickname molto vecchio ok ok pap pap into pap into auditi into ghi trogo orrore della fava che bella luce scusatene Ogni tanto mi blocco sulla mia meravigliosa luce. Ma che devo fare? Farò pop into pop. Facciamo il mana nero, vai. Facciamo un pop solo. No, vado anche in colo, scrivo un male. Ma pusciò la Roma o sbaglio? È più del Livorno, perché è amaranto questo, non è rosso. Ok, ve lo deve morire. Mio figlio poteva morire! Ho pinto pop, si vince a Duterre. Easy. Due terre, basta, non voglio altro. Buono che Ghidrog dice non token. Necessario la dicitura non token, sennò c'ha one. Non è giallo come il sole e il rosso mercore mio. No, mi dispiace, però forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Non tifo calcio, però mi fa piacere. Allora, posso dire, a me del calcio non mi fai un cazzo, ma... Il tifo romano è molto... sentito. Non lo so, mi stanno simpatici i tifosi romani. Prima o poi pescheremo delle terre, amici miei. Prima o poi pescheremo delle terre. E questo game sarà dalla nostra. Vinceremo. Sicuramente. Basta semplicemente pescare le terre giuste. No, ho problemi. Terra! Terra! Sìììì! Che fa? Nero o verde? Nero. Dai, terra, qualsiasi. Cioè, tipo, io non seguendo il calcio non so niente, non me ne frega nulla. Però quando vedo i tifosi romani parlare della Roma, ne parlano proprio come se fosse la sua mamma. Figa la merda. Che continua ad essere una cosa che io non capisco, però... Diciamo, finché il tifo fa stare bene... Finché il calcio è una cosa che fa stare bene, allora è bello. Quando è brutto è una merda. Ecco, tipo, il Milan non mi sa di niente. Non sento il trasporto nel tifo del Milan. Cioè, non lo so spiegare. Non ho mai sentito un milanista parlare del Milan con gli occhi sognanti. Cioè, capito? Invece minchia, quando un romano parla della Roma... È la sua vita. È la cosa più bella del mondo. Dopo la Roma... Nella vita Roma topa mangiare, cioè... E se nasce una bambina poi... La chiameremo Roma. E se nasce un maschio invece... Lo chiameremo Guppolone. Scusa. Che fai? Ma non attaccava. Mi hai rampato per niente. Non attaccava. Era presto. Magari dopo. Bene. Tipo, c'è stato solo un paio d'anni che io ho vagamente tifato una squadra di calcio. Ok? Ma proprio... È difficile dire tifavo una squadra di calcio. Perché è un'affermazione pesante. Simpatizzavo molto per il Livorno. Ok? Un anno. È stato un anno in cui simpatizzavo molto per il Livorno. E lì l'ho... L'ho sentita. Io mi sa che faccio prima i pezzi più lenti. Lì un po' l'ho sentita la spinta. Ma è durata talmente poco che... Quasi niente. E basta. Madonna. Un centro massaggi è questo. Quanti massaggi c'hai? È il Livorno di Lucarelli. Lucarelli, Amelia. A quei tempi, diciamo, che ho sentito un po' di trasporto. Ma proprio zer... Cioè, proprio poco, poco, poco. Fa tempo. Golgari. Zitto, 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 si alzò. Ma infatti a Livorno è rimasto il detto, eh. Quando... Non lo so come si dice da voi quando lasci il chiodo. Se te va in un locale, un tuo amico ti fai segna. Che segna nel senso... Te segna e poi te lo pago, no? Quando lasci il chiodo. E c'è la contro risposta. E te vai al bar e gli fai... Beh, fa l'azione. Oh, ci si vede... Oh, segna, eh. Ci si vede domani. E il bar gli si fa... Non so mica Lucarelli o segna? Perché è rimasto Lucarelli. Segna, segna, Lucarelli. Non so, Gengar, io non sto parlando di tifo allo stadio. Allora, intanto io allo stadio non sono mai stato nella mia vita. E mai ci andrò. Intanto. Ci posso andare a vedere Tiziano Ferro io allo stadio. Una partita di calcio. Però... Io parlo di tifo... Trasmesso a barre. Cioè, non capito? Se vai a barre e senti parlare. Non ho mai sentito i milanisti fare... Piangere per il milan... Cioè... Fandanofeffo. Sì, sì. Quello è. Lucarelli è andato al Torino, poi. Non le so queste cose io, ragazzi. Non le so. Belle queste terre, madonna. Quando troppe, quando troppo poche. Mi raccomando. Allora, tutte le terre del mondo, forse. I gabbioni di Livorni. B, si va già, appoggia e bue. Cosa? Ma che siamo al Limited. Esatto. Siamo all'Inghilterra. Basta! C'ha i pippoli. Vabbè, rampi verso tartaruga. Questa è maffi. Questa è maffi. Palese maffi. No, la musica è celeste. O celeste. Beh, ma ogni volta che qualcuno giova un mazzo diverso, è maffi per me. Maffi, maffi è il Mistmin italiano. Sono... Madonna! Più uno pesca quattro! Cosa! 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 Basta, no? Non c'è più di Liv, non c'è più. Se ogni tanto bevo, magari non mi fa male. Sbaglio o è la prima volta nella nostra vita? La prima volta nella nostra vita! Che vediamo un più uno, Vren, pesca quattro. Ah, mi sta dicendo Sarulph vinta, quindi forse... Voglio attaccare, voglio attaccare, voglio attaccare, voglio attaccare. Ciao, fake! Attacco doppio para, se non vuoi. Arvezia, Joby and Bot, direi. Ciao, fake, come stai? Cosa ci racconti nella tua vita? Cosa ci racconti nella tua vita, fake? Mi piacciono le mie nuove luci. No, ho cambiato le luci! Guardate la differenza enorme che fanno le luci, cazzo! Alexa, l'edda al 100%. Lo sono già. Molto bene, sono ancora più gnocco. Che era difficile. Sarulph, queste li spacca gratis o sbaglio? Bello sto cobra. Ma il cobra perché? Qualcuno sa perché c'è un cobra in questo mazzo cobra? Adesso mi si vede l'orecchino. Si vede questa parte di faccia? Pazzesco. La mia vita procede, la prossima settimana viaggetto in uso, nel momento peggiore aggiungerei sì, sì. E non è proprio quel momento. Credo che non voglio prendere 12 danni. Io ho una domanda da fare un po' stupida. Fallo. Per notarmi un anno fa, mannaggia a noi, ma ormai non rischi tutto, tipo minchia. Rischi po' troppo. Trespasser. Or not. E poi credo che farò un danno. Memoria di Lucca. Ameriano sei. Non sono mai abbonato a un canaletto e volevo farle la Prime per il server della Gleba. Immortale! Questa è una notizia splendida. Punto esclamativo Prime, immortale. Premi sul link gaming amazon.intro. Amazon.com intro. E ti spiega tutto. Facilissimo. Facilissimo. Ricordati soprattutto che il Prime non è come l'abbonamento normale che si rinnova da solo, ma il Prime ogni mese scade, semplicemente te entri e ripremi, abbonati. Devi ricordarti di venire almeno una volta al mese a rifarlo, però molto facile. Faccio una domanda. Ora come ora, che mazzo userebbe per mazzolare in alchemy? Allora, al momento io sto provando questo. Bisogna vedere se è un mazzo vero o meno. Io giocherei Rakdos Anvil. O poi Festival Bant. Sì, esatto. È Festival Bant. Buonasera! Benvenuti al Festival Bant! Alessia Marcuzzi! Attenzione, Ghidro con l'orrore della fama! Eccolo lì, eccolo lì. MWP. Non fa niente. Come non te lo apre il link? No, funziona. Il link funziona. Lo giuro. L'ho aperto adesso. Gaming.amazon.com Slash intro Ok. Allora, te hai Amazon Prime. Ok. Allora. In basso a destra, cioè abbonati. Ok? Nei tipi di abbonamento c'è scritto abbonati senza costi aggiuntivi. Allora, guardo a... Guardo per la prima... Apro il mio canale. Sarà un momento molto cringe. Allora. Canale, sarà un momento molto cringe. Qui io ho il regalo abbonamento. Te dovresti avere abbonati. Allora. Canale, sarà un momento molto cringe. Qui da qualche parte c'è abbonati senza costi aggiuntivi. Allora. Canale, sarà un... Oh, po' mi ha distrutto con Festival Band. Ok. Abbonati senza costi aggiuntivi. Dovrebbe... Iscriverti con Prime. No, dovrebbe. Ti iscrive con Prime. Buon abbonati gratis. Com'è la dicitura adesso? Non so, ogni tanto cambiano. Però ho delle bellissime luci. Oh po', bel mazzo. Non puoi farlo da telefono. Ecco, beh, mancava la cosa fondamentale. Sì. Puoi farlo. Devi entrare su Twitch da Safari. Se non sbaglio. Allora. Pro che molto sembro forte. L'Holt mi serve. Shatter per Faux. Crasp. Thirst. Dures. Ce l'ha già collegato. Ragazzi, c'ha il simbolo di Prime. C'ha Prime Gaming davanti al Nick. Ce l'ha già collegato. Ho queste mani? Ok. Cobra serve? Io il mazzo l'ho... lasciato così. Che questa chat è rossa? Ma puoi farlo da Safari, immortale. Se entri... Allora, vai su Safari. Vai su Twitch. E apri il Twitch browser. Entri sul canale e c'è il tasto. A regola. No, non è la canzone di teatro. Non voglio. Ah, è la versione originale del Tetris. Mi sa di sì. Eh! È salto. Sì, è salto. Sì, è salto. Ti prego, fai Terra Vren. Sì, buccia, effettivamente. Sì, buccia, effettivamente. No, ti permette. Bisoglio il misal. No, ti permette. Spiegami come c***o ti per me. Eh è stato un minuto No nemmeno Meno di 30 secondi Non è colpibile Campione sei Un campione Cazzo Io non vedo l'ore esco nel trioma per giocare tutti i tipi di mazzi col trioma Tutti no però finalmente Jund ha un trioma Non vedo l'ore Fermo per venerdì ti sei qualificato? E questo venerdì? Stai dicendo che è questo venerdì? No è il 26 È il 26 Il Qualifier Bene hai vinto Questo venerdì per chi è allora? Ma cosa c'è? Cos'è questo venerdì? Cosa c'è questo venerdì? Bel mazzo ovunque Bant Festival Così Sai cosa c'è venerdì? C'è venerdì Deve cosa stiamo parlando? Poi sabato asomai Regalo championship Sì ma c'è il championship Ah ma c'è il pro tour ragazzi No ovvio non ci sono Non ci sono pro tour Non vi ricordate? 3-3 a casa Qualifier Non vi ricordate? 3-3 a rivederci C'è Dudu So che c'è Dudu Eccolo! Ha trovato il pippolo Immortale 77 Grazie caro Grazie per il Prime Grazie mille Ora puoi fare punto scambativo Telegram E entrare anche nel Telegram Io non sono al pro tour Esatto Però ho delle bellissime luci No non commento io Sto giro Io ho la production value più alta Del tizio che fa le dirette della Wizards 100% Quello proprio assolutamente Senza ombra di dubbio Questo di secondo mi piace sempre C'è da dire eh Da dire mi piace sempre Lui di secondo Ma a sto punto Jun de lupi con Tovolar No Inclos inspiration Sul pop Bello 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 mi piace Mi piace Tu mi piace Sì Vieni a casa mia Ti faccio scopare Mia sorella Attenzione Value cobra Value cobra Nerfed Tyrant Attenzione Ma non mi serve a niente Però posso fare Takemum Farò Voglio valore Con il mio Mana Che pesca? Farifio sto cobra Se prende 4 danni Sono contento Ottimo E invece trada Tra tanto non vedevo Il caro vecchio Che schifo Cioè ho già fatto tutto Non mi serve più Che è Morto Carta morta Michael ma te ci sei già nel telegram Eh vabbè Pescheremo un'altra terra Oppo siamo a smusma Vedete cosa vuol dire smusma Un'altra parola per dire Smegma Smegma Biccia Ok Cazzo che hanno I prodigi I prodigi Hanno dedicato Una canzone Allo smegma Non me lo sarei mai aspettato Visto Immortale Mai aver paura di chiedere Ora ricordati Che il messaggio del telegram Arriva nei messaggi privati Di twitch Smegma Biccia Bua 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 Terra Questa non è male Fa pescare una figu Sarul Il lupo Gianni lupo Quanto è forte Gianni lupo Michael ma c'eri già nel telegram Sono sicuro al 100% che tu fossi già nel telegram Ah hai cambiato numero Ok C'eri ma non ci sei più Ok perfetto Ciao mamma Sì hai preso Il pomodoro Buatini Bravissima Certo che serve il pecorino Eh vabbè Vabbè va bene Va bene Farò una bestemmia No vabbè Ah eh No qualcuno si offende Io no Qualcuno si offende Se non metti il pecorino E metti il parmigiano Io no Me ne sbatto la minchia I romani left the chat No è amatriciana Allora carbonara e gricia Se ci metti il parmigiano al posto del peorino Cambia completamente tutto Effettivamente l'amatriciana Dai Dai Volendo ci potresti anche non mettere il formaggio per niente Anche perché non va nel sugo Va nel Ah no un po' nel sugo ci va Sì un po' sì Sì Un pochino sì Nel sugo E poi sopra Vabbè ma c'è sempre un romano che si offende Sono d'accordissimo Samful guy Sono d'accordissimo Io ho fatto Io faccio Volendo una versione della Della carbonara diversa Però non la chiamo carbonara Che è con Con lo zafferano Lo zafferano nell'uovo E è buonissima Però non è carbonara Non la chiamo carbonara La chiamo La pasta all'adelmo Così nessuno si offende Con gli stessi ingredienti Va sicuro che è buona Però non è carbonara Non mi permetto di chiamarla carbonara Alle ship grazie Allora Carbonara la pancetta Non ha senso Ma ti spiego perché No perché fa schifo la pancetta Perché la pancetta Non rilascia il grasso Comanto il gonciale Quindi non ti viene la crema Ti viene secca Puoi dire che il sapore ti piace Ma non è crema Non c'è la crema Sa che questo lo facciamo Grande Sarulf Madonna Che lupo simpatico Devo fare un danno Un danno gratis Di layer Ho perso un danno Mannaggia Si mettisce pure Un po' di cacao Esatto Ragazzi ma nel senso Se usi uova e guanciale Non è che per forza Stai rovinando la carbonara Puoi fare altre cose Con l'uova e il guanciale Basta non chiamarle carbonara Eh? Vero eh? Beh se mi parla la terra muore Quindi ho il discorso di prima Ho vinto il tier 2 Eh guy Ho vinto il tier 2 Però la carbonara con la panna è buona No allora Quella fa proprio schifo Secondo me Cioè il discorso Non è che ok Non la chiami carbonara E fai la pasta con la panna e il guanciale Il problema è che la panna e il guanciale Insieme Stanno di merda Ragazzi C'è proprio quel problemino lì Callerito al pari forte Tu ti rimuva il velo e fortì L'alt sbroccato Grasp mi piace Marcia va bene Shatter contro il dragon Insomma dai Un po' overkill Più contro gold Span e contro i planeswalker Questo Forse non mi c'è la planeswalker Intanto distruggiamo queste ranger class per sempre Abbassiamo i gobra E i trespasser Allora forse lo metto No metto la thirst Non lo metto shatter Contro solo drago No è il discorso mio Che proprio uova e panna È una merda Cioè È proprio quello Che mi turba a me Uova e panna insieme Uova panna e guanciale La panna non ci sta bene A livello di sapore Ho sbagliato No però se qualcuno vuole provare Io assicuro Che Lo zafferano Se volete provare una roba diversa Provate a mescolare lo zafferano nella crema dell'uovo E del pecorino Non un chilo Non un chilo Una bustina Per due persone Cioè una dose Per due Grazie a nessuno in particolare Per il follow Non ringraziavo nessuno in particolare Questi nick Comici Che ispirano Frasi reali Quando lo streamer Ti saluta E fai fare le figurette brutte Tipo Ciao Vagine Sudice Voglio toglierla adesso Che se no diventa un problema Vabbè ora costa più la benzina Dello zafferano Attuale Esatto Al cazzo Lol 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 Che risate le rise Che risate le rise Che risate le rise Bella ci sono i shashi Le luci Babbo Natale Problem Perché non si è abbonato Con Prime Con quel profilo A questo canale Vergogna Costa più la benzina Del ferro Sì Beh ha anche senso Se ci pede Meglio tre spasser È vicino Padova Lo zafferano Allora Perché non si è abbonato Con tutti Quegli account Lo vedi Non sapete fare i fan Lo dico Io non sapete fare i fan Perché solo Quelle Quelle Che giocano Ogni tanto A lol E fanno just chatting E ne devono avere I simpaticissimi Utenti Che sono abbonati Con 14 Canali Che Giftano 50 Sub Al mese Perché io Sono nato Col cazzo E Sono Obbligato Buonasera Dave Invece Mi stavo Lamentando Mi stavo lamentando Di essere nato col cazzo Quindi non c'è niente di bannabile Due per uno Tre spasser Fortissimo Due per uno Tre spasser Scartando massacro Wow Grazie al cazzo Al cazzo E ti segue Poglione Però grazie davvero Io veramente Mi ha fatto ridere Ma perché È il tempismo giusto È stato È stato il tempismo giusto Non vorrei rimuovere niente Grazie Ma ce l'hai da anni E poi mi ha fatto bene Ce l'hai da anni Questo profilo Invece da poco Che ho delle bellissime luci Come funziona questo deck Meni e fai lupi È un Golgari aggro Golgari aggro Proprio aggro puro Botte Removal Fastidi Schiaffi Cose Ma se para un 1-2 Io sono contento Sbaglio Eh ma oppo a te Strabilizza Strabiliante Se non pesco niente Tonno Filadelfia Sì Mettici un po' D'erba cipollina Filadelfia Il Filadelfia Rendilo in crema Intanto Rendi il pimer Metti un goccio di latte Nel Filadelfia Erba cipollina Frulli Poi acqua di cottura Rifrulli E fai la crema Filadelfia Erba cipollina Tonno Tonno Alti Basta Togli un minuto prima Finisci di saltare Cuocere nella crema Di Filadelfia Oh po' Esplode Mamma mia È ganso Sto mazzo È ganso Per me può essere sistemato Può essere aggiustato Sto mazzo Può essere aggiustato Sto mazzo Però è figo L'idea di base è figa Gitrog mi fa cagare Posso dire Meglio un Golgari Dritto Botte Senza Gitrog Non lo so Gitrog Mi è garbato tanto Vedo la verità Anche a me la pasta al tonno Mi piace più Col tonno Cioè Allora La mia pasta al tonno Poi finisco il video Con la ricetta Della mia pasta al tonno Come la faccio Tonno Fresco Cioè tonno buono Non ho il tonnaccio Riomare Scatoletta brutta Tonno Soffriggi Cipolla Comodorini Li tagli Fini In modo che un pochino Appassiscano Tonno Fine Pepe Cipolla bianca Ovviamente Volendo uno spicchino D'aglio Più piccolino Da togliere dopo Chilo d'olio Salti Spaghettino Peperoncino E godi A posto